Sono vecchi, in media hanno 40 anni, in alcuni casi costruiti con cemento impoverito e con vulnerabilità sismica medio-elevata. In Abruzzo, 3 su 4 ospedali sono inadeguati dal punto di vista strutturale e non rispettano i criteri utilizzati dalle più moderne tecniche di edilizia sanitaria. Anche i 4 presidi terramani sono in condizioni precarie, a partire da quello di Giulianova. Si è discusso di tutto questo, di edilizia ospedaliera, nuove strutture e sostenibilità economica dei progetti, nel convegno promosso dalla NAO Assomed Abruzzo al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo. Per il sindacato abruzzese è urgente un piano di edilizia sanitaria che tenga conto dei veri interessi dei pazienti e sia al riparo dai campanilismi. Noi siamo partiti da un dato nazionale, cioè che esiste un'alta vulnerabilità sismica degli ospedali. In particolare, nel nostro caso, c'è una gradatoria che il più vulnerabile è quello di Giulianova e il meno vulnerabile è quello di Sant'Omero. Ora, nell'ambito di questi, sicuramente bisogna fare dei grossi investimenti per poter rimettere questi ospedali a norma. E insieme alla sismicità, anche a norma, da un punto di vista dell'organizzazione della sicurezza, dell'antincendio e via dicendo. Ovviamente vogliono investire su un ospedale unico. Dunque, forse, questi ospedali che fine faranno? Allora, il ragionamento è questo. Se bisogna investire su ospedali che hanno in media 40 anni e per ottenere delle situazioni intermedie e non all'eccellenza, perché poi, a fianco alle caratteristiche strutturali, bisogna anche mettere quella che è, da un punto di vista dell'organizzazione, cioè oggi la medicina è cambiata, ci sono altre modalità di agire e quindi occorre trovare delle situazioni nuove. E noi per questo, diciamo, a questo punto riuniamo almeno tre ospedali in uno, lasciando un presidio, che è quello probabilmente di Santomero e penso che sia la cosa più giusta, che è quello a norma, che per metterlo in sicurezza occorre meno spesa, tra l'altro anche per una posizione strategica nel nord dell'Abruzzo, e in questo modo ricostruiamo una struttura unica, nuova, di 600 posti letto, sicura, e sicuramente pronta a rispondere a tutte le esigenze, dal punto di vista della salute, di tutto il territorio terramano. I medici chiedono di rispondere a quelli che sono i bisogni della popolazione. In questo momento il bisogno è di ottenere un ospedale sicuro, sicuro anche per gli operatori che vi lavorano, e occorre che questo sia collocato in una modalità tale che sia equidistante alle varie popolazioni che sono interessate.